Musica Buonasera a tutti voi amici di Telenovella Serie TV Music siamo di nuovo qua per una nuova puntata Mariana e si, oggi parleremo di un'altra telenovela poco conosciuta di quale telenovela si tratta? Doppio imbroglio scopriamo subito le curiosità su questa produzione brasiliana e noi ci vediamo domenica prossima, sempre alla solita ora con i vostri amici di sempre, Mariana e Omar Ciao Buonasera amici di Telenovella Serie TV Music oggi parliamo di doppio imbroglio, lingua originale Cambalashu telenovela brasiliana arrivata in Italia su TMC nel 1986 per la presentazione della telenovela nei promo una voce chiedeva ai telespettatori sapete cosa vuol dire Cambalashu? Grazie alla telenovela infatti il termine diventò molto popolare per indicare una truffa, un imbroglio con la fine della dittatura militare e l'inizio della nuova repubblica nel 1985 Cambalashu è stata la prima produzione di Silvio Abreu senza censura grazie alla sua interpretazione la protagonista Fernanda Moncinegro è stata premiata come migliore attrice ai trofeo in prensa nel 1986 e voi la ricordavate? per oggi è tutto vi do appuntamento a domenica prossima ciao